Sogni di diventare giornalista professionista? Scegli il Master in giornalismo dell'Università di Bari. Uno dei migliori Master in Italia, secondo la valutazione dell'Ordine Nazionale. Vale come praticantato e ti dà accesso all'esame di Stato per diventare giornalista professionista. Ti garantisce borse di studio e tirocini nelle più prestigiose testate. Realizza il tuo sogno, iscriviti subito. Hai tempo fino al 30 novembre. Posti limitati